Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il runo di videogio Il runo di dito Il runo di Bambali Il runo di videogio Il runo di umaro Dal prossimo Ma la cuti kau ne bamboni Ma capo Gergiglian Ma ciume ma te bamboni Guglian 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 non ho capo non e ho capo bu allah, allah ti dimenticare il mio 2 anni saronga paga paga bongi saronga paga paga kersara aduh tore putra beringin iato remonan ... no Uhhuh Mila si so wak wajani Calon karja bulana Saga al betto Andi kok mak drita nasa ma Kapsu donan eponegCO Ro'at ikho was senor calon karja Anche le petto buon sanga le Bimbi lana putra beringin l'aku agar Wack si sobe di pata dia Wack si sobe di pata dia Ako wack tribu doyo Tribu doyo Ayo 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 non c'è nulla la buona il tuo kakato ngalodum ebu bus a bus a bicorreng to bus iok a sakara sakara da buon arwaan di trattor biswan aziz la quanta andor pesravese empegir lolong cuna itin ngalak maghi epegna ade abes tompong apodo ade abes tompong apodo ade abes tompong apodo ade abes tompong apodo ahapom apodo ahap огромnan E' da' 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 Qua suaritini Andalabun air La paddania Misnawati di toko ngire Ma so Qua suda Grazie a tutti.